Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero vada tutto bene. Vi ringrazio infinitamente per il supporto che avete lasciato all'ultimo video, che tra l'altro, per chi se lo fosse perso, era un video in cui andavo ad analizzare, secondo me, un'azienda molto interessante che si chiama Upstart Holdings, che tra l'altro, secondo i miei calcoli, potrebbe anche essere una multi-bagger, ovvero un'azienda che potrebbe offrire un rendimento di oltre 1000%, e quindi sono contento che vi sia piaciuto. Oggi, invece, andremo a parlare della mia esperienza con la parità IVA. Ci tengo con grande orgoglio ad annunciarvi che questo video è in collaborazione con Fiscozen, che per chi non lo sapesse è un team di consulenti fiscali specializzati che si appoggiano ad una piattaforma autonoma e proprietaria con la quale è possibile gestire tranquillamente la parità IVA, l'apertura della stessa e tutti gli attempimenti relativi a quest'ultimo. Ma ne parliamo dopo. Oggi voglio parlare nello specifico di qual è stato il mio percorso nell'apertura della parità IVA, perché per chi non lo sapesse, io a 18 anni, nel momento in cui ho concluso le superiori, ho deciso di non andare a lavorare da altre parti, ma di lavorare presso lo studio di mio padre, che è sicuramente stata una fortuna perché, per chi non lo sapesse, mio padre è commercialista. Io invece sono socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende e di conseguenza appunto ho la parità IVA della società praticamente dal 2018, se non ricordo male. Nel frattempo però, mentre lavoravo come socio, ho deciso però di iscrivermi all'università di economia aziendale, che tra l'altro, per chi non lo sapesse, io abito anche in un paesino, quindi andavo sempre in macchina a un'oretta di distanza da casa mia tutti i giorni. Quindi, successivamente però, due anni dopo, quando io ero al secondo anno, la segretaria nostra è andata in pensione, quindi ho deciso di mettere in sospensione per uno o due anni l'università, quindi ho deciso di smettere di pagare le tasse, appunto ho richiesto la sospensione perché, per chi non lo sapesse, vi basta compiare un modulo in cui attestate il fatto che avete la parità IVA e che richiedete appunto la sospensione, vi permettono di congelare gli esami e i CFU e vi danno la possibilità di prendervi il tempo per gestire la partita IVA e poi successivamente, quando decidete di riniziare a dare gli esami, avete la possibilità di pagare le tasse e darli. Nel frattempo poi ho aperto anche la partita IVA come content creator per YouTube perché volevo gestire correttamente le mie entrate e tra l'altro, piccolo spoiler, sto cercando anche di ritagliarmi un po' di tempo tra tutte le cose per studiare e per dare poi l'esame da consulente finanziario e nel caso lo passassi e decidessi di iscrivermi all'albo, dovrò prendere una partita IVA anche appunto come consulente finanziario perché lo voglio fare autonomo e non presso le banche, magari come dipendente. Ma dopo vi spiego il perché. Prima di andare a vedere quali sono le motivazioni che mi hanno portato a scegliere di lavorare come appunto lavoratore autonomo e non come dipendente, ci tenevo a parlarvi di Fiscozen. L'obiettivo principale di Fiscozen è semplificare, visto che ci troviamo in Italia, il paese più burocratico al mondo, come dicevo prima, è semplificare l'aspetto fiscale del proprio lavoro permettendo di svolgerlo al meglio e senza preoccupazioni. Dovesti scegliere Fiscozen principalmente, secondo me, per due motivi. Il primo è che inevitabilmente, essendo un servizio telematico, ma comunque gestito da consulenti fiscali specializzati, vi permette di risparmiare tantissimo tempo prezioso, evitando magari lunghe code agli sportelli e semplificando inevitabilmente la comunicazione con l'agenzia delle entrate. Tant'è che appunto, grazie alla piattaforma, avete la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi che, per chi non lo sapesse, magari siete dipendenti e non lo sapete, si deve presentare ogni anno e grazie a Fiscozen avrete la possibilità di farlo senza dover compilare nessun modulo cartaceo o altro, ma avrete la possibilità di farlo solo tramite pochi clic. In secondo luogo, è che avrete la possibilità tramite appunto la chat dedicata di avere un servizio totalmente personalizzato e altamente professionale. Infatti, grazie ai loro esperti fiscali, avrete la possibilità di fare qualsiasi tipo di domanda e risolvere qualsiasi tipo di dubbio tramite appunto la chat dedicata che trovate appunto all'interno del loro sito. Ma non è tutto, tant'è che Fiscozen vi permette anche di avere un servizio di monitoraggio continuo delle vostre scadenze fiscali in modo ovviamente di evitare, classico all'italiana, qualsiasi tipo di sanzione e multa. Insomma, a mio avviso, Fiscozen è la soluzione ideale per semplificare le vostre vite fiscali e per garantire una gestione ottimale delle vostre tasse. Se infatti siete interessati a provarlo, vi consiglio di visitare il loro sito e di richiedere una consulenza totalmente gratuita e inoltre vi ricordo che utilizzando il codice GILZEN50 in fase di registrazione avrete uno sconto di 50 euro sul primo anno di abbonamento. Quindi, a mio avviso, approfittatene. Tornando a noi, sono andato a scrivervi secondo me quali sono i principali motivi che mi hanno portato a scegliere di lavorare autonomamente tramite parita IVA rispetto a farlo come dipendente perché tranquillamente avrei potuto gestire la contabilità di qualsiasi tipo di azienda all'interno della mia regione o provincia ma ovviamente ho avuto la fortuna di avere una società già a nome di mio padre quindi semplicemente comprando alcune quote sono entrato in società, ho deciso di lavorare lì. Però avrei potuto tranquillamente non farlo perché so che tantissima gente non continua le attività di famiglia e non le biasimo nemmeno perché lavorare in famiglia non è facile, ve lo posso assicurare. Comunque, i principali vantaggi che mi hanno portato a lavorare in modo autonomo sono sicuramente la lessibilità. Per chi non lo sapesse, io amo lavorare di notte odio lavorare la mattina non mi piace per niente mi sento molto più produttivo la sera e il fatto di dover pensare di lavorare secondo gli orari di qualcun altro è una cosa che non mi ha mai fatto impazzire tant'è che io mi gestisco sempre in modo libero gli orari e ciò mi rende molto più tranquillo e secondo me anche molto più produttivo. Inevitabilmente il secondo motivo è il fatto che essendo che gestisci in modo autonomo anche i tuoi guadagni è a mio avviso molto più facile guadagnare di più perché per chi non lo sapesse all'azienda un dipendente costa praticamente due volte e mezzo quello che effettivamente il dipendente prende. Per i lavoratori autonomi non è così e tutta la parte che è un costo per un'azienda ma non un guadagno per il dipendente è più facile gestirla e magari ridurla come lavoratore autonomo. Se poi magari volete un video dettagliato scrivetelo qua sotto nei commenti che magari lo faccio volentieri. Gli ultimi tre vantaggi sono un po' simili l'uno con l'altro. Inevitabilmente essendo che lavori come dipendente devi sottostare a quelli che sono i progetti e gli ordini tra molte virgolette di chi ti sta sopra. Se non mi piace qualcosa come lavoratore autonomo ho la possibilità semplicemente di rifiutarlo, non farlo. Quante volte mi capita di dover sponsorizzare magari aziende che non mi piacciono e dico semplicemente no, finita lì. Se invece dovete fare un lavoro per il vostro capo e non vi piace dovete farlo comunque c'è poco da fare. Inevitabilmente o vi licenziate o inevitabilmente dovete farlo. Ed è una cosa che non mi è mai piaciuta io sono un po' una testa calda e quindi mi piace gestire in autonomia tutto quello che faccio. Il quarto vantaggio che secondo me è molto interessante è la crescita professionale. Per chi non lo sapesse se sei un lavoratore autonomo non in regime forfettario le imposte che paghi le paghi appunto sull'utile che semplicemente ricavi meno costi. Se tra quei costi lì ci sono dei costi professionali ad esempio se sono un commercialista e voglio fare qualche corso per aumentare le mie conoscenze e mi costa 100 io quei 100 euro di costi me li farò fatturare e quindi se io supponiamo che ho 200 di ricavi e avrò 100 di costi professionali io le imposte le pagherò solo su 100. Se invece voi siete dipendenti e per cultura generale o per crisi professionale volete andare a fare qualche corso a meno che non ve lo passi l'azienda dovrete sostenere personalmente quel costo lì e non ve lo potrete dedurre che fa tanto la differenza. Il quinto vantaggio invece è come vi dicevo prima è molto simile al terzo ovvero che non ho nessun conflitto di interesse come lavoratore autonomo mentre come lavoratore dipendente capita molto spesso a mio avviso. In conclusione dico semplicemente che inevitabilmente ci sono anche tantissimi vantaggi come lavoratore dipendente però sono cose che se devo mettere sulla bilancia mi fanno comunque pendere verso il lavoratore autonomo. Detto questo fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti lasciatemi un feedback e niente ci vi chiamo al prossimo video ciao a tutti